Benvenuti ragazzi, qui con i Maniaci del Gaming, nuova partita commentata della nostra finale dei Grand Prix di Birgman. Ecco qui vediamo Grixis Delver contro Monored Prison in Legacy. Vediamo subito che parte Grixis Delver con una fantastica Scalding Tharm, una terra che ci permette di cercare nel mazzo, sacrificandolo ovviamente e pagando un muto vita, una terra che in questo caso, in questo formato si parla di dual, poi le vedremo. Dall'altra parte, Monored Prison parte subito con una bellissima Ancient Tomb, è una terra che dà due mana in colori tappandola, ma ci fa anche due danni. Subito dopo parte subito con la Mox, ok? E adesso vi spiego piano piano. La Chrome Mox in pratica è una di quelle carte che ha imprimere, costa zero e quando entra puoi rimuovere dal gioco una carta ed imprimerla sotto di essa e questa carta ci darà il mana del colore della carta impressa. Comunque, casta Trinisfera, un artefatto costo tre, ok? Quello qui che la vediamo, che dice che fin quando è stappata tutte le magie che costano meno di tre costerebbero invece tre. Dall'altra parte, che cosa succede? Appena casta Trinisfera, ovviamente, gli casca addosso una Force of Will. La Force of Will è una carta che ci permette di pagarla come costo alternativo rimuovendo una carta blu dalla nostra mano e di pagare un punto vita, ok? Invece di pagare cinque, è un istantaneo che countera una Magia Bersaglio. Intanto, come dicevo, sfeccia, sfeccia per una terra blu-nera, in questo caso si tratta del mare sotterraneo, l'Underground Sea, e tira una Brainstorm, un istantaneo costo uno, che ci permette di guardare, di pescare, non solo guardare, come in Moda, di pescare tre carte e poi di sceglierne due e di metterle in cima, nell'ordine che vogliamo, dalla nostra mano, ok? Molto, è molto, diciamo, frenetico, ma anche lento il Legacy, è molto particolare, molto molto bello, ecco qui che sfeccia di nuovo con la nostra Scalding Tharm, in cerca di qualche altra dual da mettere in campo, ovviamente, un altro mare sotterraneo. Dall'altra parte, invece, ovviamente, ha fatto tutto quello che poteva, vediamo un attimo che cosa succede. Vediamo che cosa tira il nostro Grixis Delver. Dall'altra parte, va, è Monorail Prison e Dragon's Toad, praticamente, il suo nome. Vediamo un po', una Probe, la Probe, in pratica, è una carta Sorcery che, o a costo di un blu, o a costo di due punti vita, ci permette di guardare la mano dell'avversario e di pescare una carta. Infatti, vedete, sta prendendo nota delle carte che ha in mano sul suo Block Notice, dove tiene anche i punti vita, ok? In questo caso ha pagato punti vita e pesca una carta. È importante, in questi casi, avere sempre le carte nel playset tutte uguali, perché, dopo aver guardato la mano, potreste sapere, nel caso ne avesse un'altra in mano, capite? Giocandone una di un'edizione diversa, dopo che avete visto che, invece, aveva un'altra edizione in mano. Quindi è importante, ecco perché si predilige il playset tutto uguale, rispetto che i playset, quelli diversi, ok? Della stessa carta. Qui, intanto, fanno vedere lo Speck Pears, va bene, nel senso, ok, ok, ne prendiamo atto, ne prendiamo atto, ne prendiamo atto perché lo gioca main deck in uno per Grixis Delver, ok? L'avrà anche in mano, non ci ho fatto caso. In ogni caso, vabbè, The Trey Shaman, ragazzi, è un Prince Walker costo 1, tra effetti. Cioè, c'è poco da raccontarci. Costo ibrido, o verde, o nero, lo tappiamo, rimuoviamo una landa da un cimitero bersaglio, aggiungiamo mana di un qualsiasi colore alla nostra riserva di mana. A costo, invece, poi, di 1 nero, ci permette di rimuovere Instant Sorcery da un cimitero, e di far perdere due punti vita a tutti gli avversari, e a costo 1 verde, tappando, esiliare una creatura da un cimitero e guadagnare due punti vita. 1-2. Dall'altra parte, intanto, fa Bloodmoon, ragazzi. Bloodmoon, l'avete detto qui, costo 3, incantesimo, le terre non base, sono montagne, e qui Grixis Delver piange, perché le sue fantastiche duel e la sua fantastica fetch sono tutte delle montagne non base, ok? Dall'altra parte, intanto, ha appoggiato comunque Città dei Traditori, una terra che gli permette di aggiungere due mana senza, diciamo, malus, ma quando si gioca un'altra terra, devi sacrificarla. In questo caso non succede più niente, perché con Bloodmoon sono tutte in montagne, quindi perdono i loro effetti, e quindi rimane tutto sul board, ma tutto quanto da un solo mana rosso. Dall'altra parte, cerca di appoggiare il nuovo card, quello che vedete qui, ma lo Speb Pierce tattico, tirato con lo Sciamano Lethal Mago, rimuovendo una delle sue fecce dal cimitero e quindi aggiungendo il blue che gli manca, gli permette di salvarsi da questo Prince Walker nuovo, che bene o male mi piace, bene o male mi piace. Fate la decklist di Monored Pryson e gioca due, e gioca due Cendre, ok? Quindi, vabbè, ci può stare, ci può stare... Secondo me ci sta. Dall'altra parte adesso tira un bel Ponder, è una carta a costo 1, che gli permette di guardare le prime tre carte, poi rimetterle in cima nell'ordine che vuole e pescare una carta, altrimenti invece di sciaffolare e di pescare una carta randomatica, quindi in questo caso, ok? Decide il rando perché si vede che ha visto dello schifo incredibile in cima al mazzo e ci sta. Niente, passa il turno, vediamo il nostro... un drago, io lo chiamo Dragon Stompi, il nome è quello classico, il suo Monored Pryson, sono appassionati. Comunque, potete chiamarlo un po' come volete, Monorosso, basta che non lo chiamate Sneak Attack, perché quello è un altro mazzo. Ok, niente, passa il turno e qui c'è poco da fare, ci sta pensando se appoggiare Landa, però decide di fare Gitaxian Probe, quindi la stessa di prima, e di riguardare la mano dell'avversario, se le segna, di pescare una carta, tutto quanto per due punti vita. Qui fanno rivedere la Broadmoon, ok? Lui, vediamo cosa fa, e attacca, ce n'è da fare un danno, ma vabbè, che devi fare? Decide di passare per non appoggiando Landa, perché vuole arrivare, secondo me, a sette carte in mano, quindi andare all'ottava e andare in discard per poter sfruttare quella terra al cimitero con Shaman Lethal Mago e quindi aggiungersi un mana di qualsiasi colore alla sua riserva di mana. Vediamo cosa fa Gary, Urka Chandra è qui, è brutta, brutta la situazione, vediamo cosa succederà, Chandra entra, vediamo subito, fa il suo plus, esiliando la prima carta del Grimorio e la può giocare subito, scusate, e fa due danni a tutti gli avversari, ok? Vedete, eccola qui, ha fatto il più uno, entra con quattro, veramente, veramente forte come Prince Walker. Subito Bolt, vediamo se ha l'altro Bolt in mano per toglierla definitivamente dal board, perché Shaman la porterebbe a uno, ma non basta, purtroppo. Ecco l'altro Bolt e via la Chandra, è subito andata via, e subito, tac, entra di un dannino, dai, altri 16 turni così e ce la puoi fare. Vediamo un po' cosa succede, dall'altra parte ha appoggiato una montagna, niente di eccezionale, ecco un'altra montagna passa, ha in mano il ponte, che vabbè, ci morirà? Chi lo sa, tutto in legacy è possibile. Ecco intanto che appoggia un'altra dual, l'isola vulcanica, che in questo caso aggiunge rosso o blu, specifica all'interno del testo, che è considerata sia isola che montagna, come anche il mare sotterraneo, nel suo testo viene considerato sia palude che isola, quindi è fecciabile con le varie fecce. Vediamo un po', appoggia la scimmia spirito guida, è una creatura 2-2, costo 2 in colore, 1 rosso, che esiliandola dalla mano, ci permette di aggiungere 1 rosso alla nostra riserva di mani, in questo caso è un bittante 2-2, ok? Ci sta, ci sta, ci sta, ecco, vedo che lo paragonano al grey ogre, in questo caso, che è un 2-2 vaniglia, costo 3. E niente, qui si picchiano un po', si picchiano un po', Geek si è messo veramente, veramente male, veramente, veramente, veramente male, anche perché comunque, la sua lista non gioca basi main deck, e neanche post side, quindi, non c'è modo di aggiungere colore, salvo con lo sciamano Lethal Mago, non c'è veramente, veramente modo, niente, lì paragonano lo sciamano Lethal Mago, vabbè, no, non è paragonabile, no, comunque non è paragonabile, no, evitiamo, evitiamo, evito anche proprio di dirlo, ecco, uuuuh, il calice, il calicione, ecco, niente, calice a 1, qui, è brutta la situazione, il calice, il calice è un artefatto XX, ok, che a seconda dei segnalini con cui entra, ok, ogni qualvolta un giocatore gioca una spell con costo di mana equivalente al numero di segnalini sopra di esso, viene counterata automaticamente, ok, quindi XX come costo di mana vuol dire che se noi tappiamo 2 mana per pagarlo, entrerà con un segnalino, tappiamo 4, entra con 2, e via dicendo, avete capito, dall'altra parte gioca Giovane Piromante, ok, una creatura 2-1, costo 2, uno in colore, uno rosso, che ogni qualvolta noi tiriamo un instant to sorcery, creiamo un pippolo elementale 1-1, ok, forte, nel formato legacy è forte, ok, non in questo caso, in questo caso, eh, si sacrificherà contro la scimmia spirito guida, immagino, il prossimo turno, e niente, Trinisfera, giusto per, tanto, non penso ci siano grossi problemi, per chiudere la partita con tutta quella, Blood Moon, Trinisfera e Calice a 1, vabbè, la partita è già segnata, cioè, era già segnata dalla Blood Moon all'inizio che si è risolta, adesso, cioè, è proprio, è impossibile, irrecuperabile, a parte che può succedere di tutto, ma con questa lista di Grixis, comunque non può succedere più nulla, non può succedere, con questo non dico che non sia forte, anzi, è una lista veramente, veramente forte e performante, il problema è che la Blood Moon dà fastidio a tutti, ragazzi, è in legacy di basi, quante ne vuoi giocare, a parte alcuni mazzi che ne giocano in quantità spropositate, ma perché possono comunque, ad esempio Monorez gioca tante montagne e base, oppure altri mazzi come Omniscience gioca tante, tante isole, comunque, vedete esatto, qui viene tradata la situazione, Young Piromancer per, la nostra scimmia spirito guida, e lui niente, Magus of the Moon, un altro 2-2 costo 3, Magus of the Moon è come ho detto un 2-2 costo 3, che in pratica fa lo stesso effetto di Blood Moon, ok? Le terre non basi, sono montagne, molto, 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 molto facile, ok? E ormai qui in balia si prende, non può fare più nulla, si può tirare una spella adesso prossimo turno, visto che mi sembra un Ponder, perché è una terra al cimitero, ma non può neanche il Bolt sul Magus, perché verrebbe counterato da, ma neanche il Ponder, neanche il Ponder, comunque, verrebbe tutto counterato dal calice, e niente, picchia, così, anzi no, scusate, no, ci prova, ci prova, vedi, Tricca, Tricca, paga addirittura 3 per Tremesfera Ponder, l'altro ci pensa, attenzione, ci pensa, oh, eccolo, e viene counterato, niente, è a mucchia felice, felice e contento, come vedete, al RUIA, il team quello japonese, japonese, e niente, si passa al G2, con una vittoria, direi, scontata, dopo l'entrata della Bloodmoon, di Mono Red Prison, barra Dragon Stompi, ecco, vediamo un po', le nostre liste, ecco, vedete, Grixis, bene o male, tutto stock, gioca i suoi uno per, quelli tattici, tipo Spell Pierce, Forked Bolt, Dismember, e va bene, due Nemesi, ok, due Rane, ci sta, vediamo invece un po', la Sideboard, Ancient Grunge, i due pair, che metterà dentro, per evitare Trinis Fere, Ponte Entrappolante, ma, secondo me, potrebbe mettere anche dentro, Cabal Therapy, perché ci sono dei chiodi, da tirar via dal mazzo dell'avversario, anche se è molto, è molto lenta, rispetto al mazzo dell'avversario, che può fare di primo, subito Bloodmoon, o comunque Magos of the Moon, e altro, quindi, non lo so, l'editto, non lo so, non avendo basi, a questo punto, preferisco Dismember, e basta, Flat Storm, sì, la Tessun, per forza, Staticaster, no, Pity Needle, no, quella che chiamo io, Red Elemental Blast, ma non è la Red Elemental Blast, perché è l'altra, ok, quella che, la differenza tra Red Elemental Blast, e Pyro Blast, è che Red Elemental Blast, necessita per forza, di un target valido, per essere tirata, mentre Pyro Blast, si può tirare anche senza un target valido, e quindi in questo caso, far triggerare la giovane piramante, e quindi mettere un pippolo 1-1, sorge l'extraction, e gitte, vediamo, vediamo un po', vediamo un po' cosa ci propone, vediamo un po', vediamo, forse, forse no, no, Flat Store no, Flat Store no, vediamo, forse la vediamo un attimo, con la Sidewall del Loppo, forse, no, 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 per evitare il Ferry, no, no, non ne vale la pena, non ne vale la pena, è una carta che può risultare morta, vedete, comunque, non avere una buona conoscenza, della liste degli avversari, in legacy, per fare delle side date, veramente, veramente, fatte, fatte bene, perché quella carta in più, o quella carta in meno, può fare veramente, veramente la differenza, in un formato, così, così ricco, diciamo, così ricco, vediamo, gioca due a Braid, quindi che spacca, artefatto, fa tre danni a creatura, la Surgical, le Ferie Mac, perché penso che comunque, siano contro i vari combo, come riannimento di tutto il resto, perché scartandole dalla mano, rimuoviamo, fino a due creature, da un cimitero, Versaglio, dal gioco, ok, gioca i cannocchiali, ok, o gioca i cannocchiali, che, vabbè, ci stanno contro alcuni mazzi, non contro questo, in particolare, al posto del Pitting Needle, vabbè, lui lo può fare, perché comunque, Pitting Needle, costa uno, e per i mazzi, che non fanno, tanto mana, in maniera rapida, ci vuole per forza il Pitting Needle, mentre invece, un mazzo del genere, che gioca all'interno, le Chrome Mox, gioca all'interno, i Simian Spirit Guide, o comunque gioca le Ancient Tomb, le Città dei Traditori, che gli danno due mana, subito di primo turno, il cannocchiale, è perfetto, è perfetto, anche perché gli permette di guardare la mano dell'avversario, poi nomina una carta, e blocca, e blocca qualsiasi, qualsiasi combo, alla fine, perché, puoi usarlo, puoi usarlo in vario modo, il cannocchiale, puoi bloccare molte, molte, molte combo, del formato Legacy, come ad esempio, uno palese, che ho detto prima, di Sneak Attack, nomini Sneak Attack, e gli blocchi, l'incantesimo, vediamo un po', il nostro G2, vediamo anche cosa non sei dato, sono curioso di vedere, sono proprio, proprio curioso, io penso che dall'altra parte, poco nulla, magari la Surgical, la Surgical ci sta, e poi non lo so, Cosilec Return, bah, bah, vedremo, 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 la Fattina, vabbè, la Fattina, non lo so, se proprio si sente sicuro, di fare tipo, Blood Moon subito, vuole bloccare lo Sciamano, ma tanto, è comunque in vantaggio, quindi non serve a niente, è un surplus del surplus, vediamo un po', adesso parte, Grixis, Velver, vediamo un po', sono proprio, sono proprio curioso, di vedere cosa succede, comunque, bello che DeLegas, è comunque che, anche questi mazzi qui, possono arrivare in finale, contro, dei Taiwan assoluti, come, come lo è Grixis, Delver, anche questo è bello, vabbè, ho tutto rispetto, nel senso che, se uno considera, Mono del Prison Tier 1, non sarò io a dirgli di no, nel senso, io mi baso sui vari risultati, e basta, quindi, non prendetela male, io parlo solo, sui risultati che vedo, e basta, ok, ovviamente, io lo considero, un bellissimo mazzo, che ho anche giocato, personalmente, quindi, quindi niente da dire, ho giocato tutti e due, quindi, quindi mi piacciono tutti e due, mi piacciono tutti e due, a parte che, non penso che ci sia un mazzo, che io odio, personalmente, perché avendoli giocati, un po' tutti quanti, tutti quanti hanno le loro meccaniche, i loro pro e contro, e, se sei un appassionato di magic, non hai un vero odio, per un mazzo, magari, ti dà fastidio trovartelo davanti, quando sai che è un brutto matchup, ma, vero, vero odio, no, no, per un mazzo, mai, e niente, qui si muliga subito, Gary, mano brutta, muliga subito, Grixis Dalver, invece, kippa, a quanto pare, e niente, qui fanno vedere la forza, of will, che sembra, sì, c'è un meme, che gira su internet, che dicono tipo, calice di primo turno, se l'altro non è in mano a forza of will, è GG, in legacy, dicono così, c'è questo meme, ma vabbè, non è proprio, post side, non è proprio così, non è proprio così, infatti, adesso ha dentro, gli answer grunge, che faranno la differenza, su calice, su trinisfera, su, su tanta roba, farà una differenza, vediamo un po', vediamo un po', e io sciaffola ben bene, eccolo qua, tra 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 tra, e un, vediamo un po', cosa vedo, cosa vedo, ho intravisto, una città dei traditori, e niente muliga, e niente, niente da fare, mi è sembrato di vedere, un po' troppe lande, di prima mano, è qui, la situazione è già brutta, per il nostro mono red, non è, non è messo bene, troppe troppe muligate, vediamo un po', tanto, vediamo qualche info, sul nostro GP di Birmingham, 2018, 1200 player, nel formato legacy, si è svolto, il 12.5.2018, e in top, abbiamo, ovviamente, questo nostro mono red, due grixis, un affinity, ragazzi, un affinity, voglio, voglio vederlo, quando ci farò il deck tech, che avevo detto, nello scorso video, allora, lo faccio, lo faccio, perché a fine di legacy, devo, devo vederlo subito, ha fatto top, incredibile, dredge, di cui farò anche di questo deck tech, grixis, kes, grixis delver, e for color cotto, di cui potremmo fare, il deck tech di tutto quanto, senza problemi, ecco che parte grixis, subito, delverone, primo turno, vulcanica, delver, delver è una creatura, costo 1, 1, 1, che dice, inizio il tuo mantenimento, guardi la prima carta del mazzo, se è un instant e sorcery, puoi rivelarla, e così si flippa, e diventa un 3-2 volante, in questo caso, non l'ha rivelata, perché, ovviamente, non sarà stata, né un instant, né una sorcery, quindi, non si flippa il derwey, non si trasforma, ecco che vedete, l'art quella del volto lì, quella nuova, mentre lui gioca quella, quella classica, la di Innistrad, ecco che feccia subito, con una polute delta, che ci permette di fecciare, o per blu, o per nero, e qui, vabbè, prende tutto, alla fine della fiera, e prende un mare sotterraneo, vediamo un po', sciaffoliamo, sciaffoliamo, mamma mia, quanto sciaffolano, mamma mia, vabbè, io facevo le pignette, cento pignette, ci mettevo un'ora, quindi lasciamo stare, niente, picchia di uno, pam, e via, e via, e via, cos'altro fa, niente, passa così, open, no, dai, un po' andalo, devi tirare, dai, eh sì, e tira sto po', non fare il prezioso, vediamo, guarda, giovane, giovane, underground si, e, sciamano del talmago, mi pare di aver visto, dai, dai, dai che hai tappato male, così, ah, ah, che cos'hai in mano per, per sciaffolare un fantastico Plinswalker, tra effetti, accidenti, accidenti, vediamo, vediamo come evolve, eh sì, 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 ah, ma quanto mescola, quanto mescola, dai, dai, facci vedere, facci vedere la tua pescata miracolosa di ponder, post sciaffolata, sì, dagli l'alzata e beviti la Pepsi, mmm, vediamo, tra tra, ah, sciamano del talmago, che bravo, che bravo, eh, e tira un altro Del Verone, eh, quella carta che vedete sotto, è quella che giocano, alcuni la vogliono giocare, altri no, in pratica, ha annerito tutto, tranne il nome del Delver of Secret, e si gioca a quello, invece di giocare direttamente dentro i Delver, lui li prende dell'extra deck e li mette in campo, cioè dell'extra deck da fuori dalla partita, praticamente, e, si può fare, io solitamente tiro fuori dalla busta il Delver e lo flippo, vabbè, niente, calice, eh, qui, ce l'hai la force, dai, non ha il blu, non ha l'altra carta blu, no, è sicuro, è sicuro, ha Innocent Grunge in mano, te lo senti, te lo senti che lo peschi, lo flippi il Delver così con, eh, no flip, no flip, comunque lui di Ponder ha voluto sciaffolare per cercare di far flippare il Delver, ovviamente, non per altro, non ha visto un instant e sorcery from the top, e ha deciso di mescolare, e quindi, adesso ovviamente, non flippano, e il Delver, allora, ho visto gente che subito, tac, li gioca, si flippano, io personalmente sono un po' come lui adesso, non flippano mai, eh, viene counterato, ci ha provato, ci ha provato, aha, Westland, Westland è una terra che ci permette di aggiungere uno in colore, oppure di sacrificare e di distruggere una terra non base, eh, qualunque, anche nostra, comunque, che tu dici, ma perché dovremmo distruggere una delle nostre? eh, ci sono mazzi in cui ti vuoi spaccare anche la tua, vediamo tappando tre, eh, Goblin Rubble Master, trascinatore di folle, allora, che cos'è? è una creatura a costo tre, due in colori, uno rosso, due due, che dice che le creature che controlli devono attaccare tutti i turni se possono farlo, all'inizio della tua combat, quindi all'inizio della step di combat, create, vedete, lo vedete qui, create un 1-1 Red Goblin, eh, con, eh, sul campo di battaglia, e, ogni qualvolta lui attacca, prende più 1-0, per ogni altro, eh, goblin che sta attaccando, forte, e infatti qui gli ha fatto una bella forza, perché, lo vede che senza creature, lui spera di flippare sti delver che non flippano, quindi, e adesso gli tira anche la rana, la rana, la rana è una creatura, eh, eccola qui, la vediamo, è una creatura a costo 7, con delve 5-5, praticamente, eh, per ogni carta che noi esiliamo dal nostro cimitero, questa costa 1 in meno, ok, quindi riduce il suo costo di incolore, il nero specifico rimane sempre a prescindere, non si può scendere sotto 1 di casting cost, in pratica, gli fa ponte intrappolante il nostro Mono Red, il ponte intrappolante che cosa dice? è un artefatto a costo 3, che dice che le creature con forza superiore, eccolo qui, che è superiore al numero di carte nella tua mano, non possono attaccare, quindi, eh, sia quelle sue che quelle dell'avversario, dall'altra parte, feccia, per invece, in questo caso, una fantastica isola tropicale, che è sempre una dual, in questo caso, verde e blu, ok? sciaffolo, sciaffolo, dai, dai, che li vuole far flippare, ragazzi, ci sta provando a sciaffolare bene per far flippare sti deliver, ecco, trigger, oh, eh, no, no, avrebbe girato proprio tac, l'avrebbe lanciata in campo, e niente, picchia, picchia per due, sì, scusate, stavo dicendo, perché non picchia solo con due, perché c'è il ponte intrappolante, e quindi, la nostra rana, la Grumal Hanger, non può attaccare, non può attaccare, vediamo il nostro Monoled Prison, che cosa ci combina, montagna base, questa partita è solo montagna e vasi, un altro ponte intrappolante, vedo nella mano, e poi, un'altra carta che non vedo, vediamo un po', vediamo un po', costa 4, trova essere a Chandra, no, Pia e Chia Nalar, signori, due in colore, due rossi, due e due, creature leggendali, eccola qui, lo fanno vedere tutto qua, quando Pia Chia Nalar entra, creiamo 2 1 1 colorless, topter artifact creature, con volare, a costo 3, noi sacrifiamo un qualunque artefatto che controlliamo, e questa carta, Pia Chia Nalar, infligge due danni, a un qualsiasi bersaglio, quindi giocatore, per poi reindirizzare su place walker, creatore, bla 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 bla, e niente, flippano, ragazzi, proprio con, flippano, subolt, che, carta che non serve in questo caso, perché c'è calice, non possono neanche più attaccare, perché, lui ha due carte in mano, sono dei 3 2 con volare, quindi, non posso attaccare, vediamo un po', vediamo un po', sto facendo un po' di stacks, il nostro Monored Prison, ovviamente, proprio dal nome ce lo fa capire, vediamo un po' po' po', e attaccare non se ne parla, a Monored Prison, al massimo puoi magnarti i pezzi, e sparare, sì, fai l'altro ponte, perché se lo vuole magnare con Pia Chia, e sparare, magari un Delver, per poi iniziare questa race, a colpi di 1-1, dopo aver fatto fuori, ovviamente, anche l'altro Delver, ovviamente, questa race, lentissima, però il Legacy è anche questo, ragazzi, race lentissime, e cose molto, molto particolari, ci sta, ci sta, è bello anche per questo il Legacy, vediamo un po', vediamo un po' cosa ha pescato, oh, ha tirato su troppo presto, non ho fatto un tempo a vedere, un altro ponte, via, 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 ponte su ponte, te ne manca solo uno, gioca il playset, main deck, il nostro Monored Prison, e niente, lì, passa, e vediamo cosa pesca, vediamo, vediamo chi dei due, romperà il silenzio, vediamo un po', ne ha pescato un altro, il ponte trappolante? mi sembra di sì, accidenti, dai, fammi vedere, ah, Chrome Mox, la appoggi così, sì, va bene, perché può imprimere, non deve per forza, quindi esiliare la carta della mano, la gioco così, perché poi se la mangerà, con Pia e spara, non necessita di, di dover imprimere, e non lo fa, su passa, why, why, niente, niente, e non, non lo so, dall'altra parte, vabbè, Terra Go, quindi, non so, boh, le finali sono sempre un po' particolari, la gente ci pensa dopo, ci pensa prima, non so, Trinisfera, ok, non penso di counterarla in ogni caso, anche se fossi io al posto del giocatore di Grixis, talmente full di roba, che quello è l'ultimo dei miei problemi, magari terrei la force per una Chandra o altra roba, vediamo un po', vediamo un po', mamma mia, niente, è proprio, è una prigione questo Monorella, non fa, ne tira, ma dai, tira giusti due delvere, inizia a picchiare con questi 2-2-1, questi 1-1 qui, mamma mia, di cos'hai paura, di cos'hai paura, lo vedo bello tranquillo il tipo, bello, anche pensieroso, non so cosa stia pensando, due carte in mano, il bordo è quello, è l'altro che ha la mano abbastanza, piena, e non sta giocando niente, molta roba costo 1, l'ho visto prima, uh, fire, stavi aspettando questo, non me lo dire, non me lo dire, e, che cosa ha fatto? oi, oi oi, cosa ha fatto? Ha fatto i danni? Ah, ok, vabbè, perché comunque non si voleva rattare, no, comunque, è un'hich creatura anche le sue, infatti, no, eccola qui, la vediamo, il fiery confluence, bella carta, costo 4, che ci permette di scegliere fino a 3 cose, possiamo scegliere più volte la stessa, fare o un danno a tutte le creature, o due danni a tutti gli avversari, o distrugge un artefatto, e possiamo mixare in più modi, ero preoccupato, e adesso, non so, fa tipo, più volte i danni a tutto, e rimane senza board, ero quasi preoccupato, vediamo cosa tira, dai, sono, un altro, un altro calice, lo sta pagando, a zero, a zero, calice a zero, ok, 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 calice a zero, l'ha dovuto, ha pagato 3, perché c'è trinisfiera in campo, se no, non doveva pagare niente, lo poggiava e basta, dalla mano, niente ragazzi, non so cosa dirvi, non vuole cercare di vincere la partita, sta aspettando, non lo so, un Prince Walker, la Chandra, non so cosa stia aspettando, magari è abituato a un certo, stile di gioco, non vuole cercare proprio di vincere, senza quale carte, sta aspettando, sta proprio, è in attesa, è in dolce attesa, mamma mia, è bello che gioca solo due Chandra, quindi, boh, e il resto, non è che dici, il Rabble Master, non può attaccare, nel caso, comunque, non mi sembra il caso di attaccare, anche perché poi dovrebbe attaccare, anche poi, tutti gli altri Goblin che fai, morirebbero a gratis, senza senso, e morirebbe anche lui gratis, senza senso, quindi, in qualche modo, ah, finalmente, finalmente si è mangiato quella Mox, per fare due danni, ah, direttamente in faccia all'oppo, wow, ha fatto due calcoli, due, quattro, sei, otto, dieci, ah, dai, 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 ce la fai, ce la fai, basta che ti mangi, qui quattro artefatti che hai, zio best, ce la fai, ce la fai, puoi vincere, la possiamo chiudere qui, questa sofferenza, che è una vera prigione, guardate, imprigionata, non so cosa fare, vedo force, vedo un bolt, vedo le Westland, che non servono a nulla, perché non svasta niente, poi l'altro non gliene frega niente, ecco qui, ecco, si mangia il calice a zero, gli fa due danni in faccia con P.E.K.I.L.A.R., si mangia, mangia un totterino, gli fa altri due danni in faccia, perché ricordate che P.E.K.I.L.A.R. può mangiare un qualsiasi artefatto che controlla, quindi, tac, doveva sfruttarlo fin da prima, non so cosa stava aspettando, io, addirittura, poteva, quando aveva altri artefatti, poteva sparare due danni, e iniziare a bitare con questi, nostri totterini, e poi gli poteva anche sparare dopo, che aveva finito di bitare, quindi, non so, niente, se l'è voluta prendere molto, molto comodo, ha detto, la finale me la prendo molto, molto, molto easy, un altro calice a zero, l'altro, cioè, anche counterarla non ha senso, perché tanto è morto, non so neanche perché l'ha tirato, alla fine, perché tanto, poteva, poteva chiudere la partita, l'altro pescato Brainstorm, che viene counterato da calice a uno, è sotto, è sotto un treno, calice a uno, ragazzi, è vero, è tutto vero quello che dicono nei meme, eh, eh, attenzione, ci sta pensando, ma c'è calice a uno, eccolo, eccolo lì, è tutto vero quello che dicono di calice, ma fino a un certo punto, lui mi sa che sperava di pescare quell'Ancien Grange, che di sicuro, anzi quei due Ancien Grange che ha messo dentro, ma non li pescherà a quanto pare, o magari, no, ma non c'è, non c'è più tempo per pescarli, è morto adesso, tre, ecco qui, due danni, va uno, dai che lo fai subito, le, altri due danni, e niente, è partita finita, con Chandra in mano, con Chandra in mano, ragazzi, con Chandra in mano, che sudata, eh, la pelata, che sudata, mamma mia, che sudata, non ce la faceva più troppa attenzione, non si sapeva se mangiassi gli artefatti o meno, comunque ragazzi, con questo è tutto, spero che vi sia piaciuto il commento, lì, cos'è sta festa, mamma mia, chi che ha visto, la madonna, che è successo, che cosa è successo, non vedevano loro che chiudeva questa partita, tutti quanti, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, l'eroe, comunque ragazzi, per questo è tutto, per questa partita commentata, spero che vi sia piaciuta, che vi abbia dato delle informazioni, su quello che avete visto, che vi mancavano, e ci vediamo, alla prossima puntata, qui con i maniaci del gaming, iscrivetevi, commentate, spammate, insomma, le solite robe, lo sapete anche voi, ciao ragazzi, e alla prossima, e alla prossima,